Papa Francesco ha tenuto oggi l'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha espresso la sua costante preoccupazione per la difficile situazione in Palestina e Israele. Durante l'udienza, il pontefice ha lanciato forti appelli per il rilascio degli ostaggi e l'invio di aiuti umanitari a Gaza. Papa Francesco, il cui pensiero è rivolto quotidianamente alle tensioni in Medio Oriente, ha pregato per coloro che soffrono a causa dei conflitti in corso. Ha espresso la sua speranza per un futuro di pace nella martoriata Ucraina e in altre regioni del mondo afflitte dalla guerra. Il pontefice ha inoltre ricordato a tutti i fedeli che domani, venerdì 27 ottobre, sarà una giornata di digiuno, preghiera e penitenza. Alle 18, i fedeli si riuniranno in San Pietro per implorare la pace nel mondo. Papa Francesco ha enfatizzato l'importanza di non permettere che le nuvole dei conflitti nascondano il sole della speranza. Durante l'udienza generale odierna, il Papa ha fatto un'entrata speciale a bordo della papamobile aperta, circondato da migliaia di pellegrini. Durante il suo giro tra i fedeli, ha fatto soste per accarezzare e benedire i bambini presenti, dimostrando affetto per i più piccoli. Prima di iniziare la sua udienza, il Papa aveva fatto salire sulla papamobile cinque bambini, due maschietti e tre femminucce, che lo hanno accompagnato durante il suo giro tra i fedeli. Questo gesto ha sottolineato l'importanza dell'infanzia e della pace nel cuore delle preoccupazioni del Papa. Il messaggio di Papa Francesco oggi è un richiamo all'unità e alla speranza in un mondo segnato da conflitti. Un invito a pregare per la pace in Palestina, Israele e in tutto il mondo.